Una persona è morta in un terribile incendio scoppiato ieri mattina nel grande centro commerciale Megakimk, nella periferia nord-occidentale di Mosca. Purtroppo una persona è rimasta uccisa nel rogo. Spiegano fonti locali, sono in corso i lavori per spegnere l'incendio, ha detto il responsabile del di Castero. L'intera struttura è rimasta avvolta dalle fiamme che si sono propagate su una superficie di 18.000 metri quadri.